Buongiorno a tutti, sto facendo questo video che sono circa le 10 e un quarto, 10 e mezzo, sono esattamente le 10 e mezzo di domenica, ovvero lo stesso giorno in cui voi vedrete questo video, quindi sto facendo questo video poco prima che esca, perché mi ho dimenticato di farlo. Oggi siamo in una nuova puntata dei miei oggetti, e quale magico oggetto andremo a vedere oggi, come se non fosse scritto nel titolo e se non ci fosse in copertina, andiamo a vedere. Ebbene sì, la mia tastierina, gentilmente regalatami dai miei carissimi amici, insieme a quella scheda audio che prima o poi vedremo, come sentire sono un po' malato dalla voce, non posso tipo cantare note alte, non posso fare tipo... E sono andato ad aprire un whatsapp, non ce la faccio. Allora, tastierina Akai Professional MPK Mini, è una bella tastierina a due ottave qua, contiene due ottave che possono essere anche shiftate, nel senso, se volete un'ottava più bassa, i pulsanti sono spenti perché non ho il pc, e quindi è scollegata. E comunque, se pigiate ottava meno, lui va nell'ottava meno, se pigiate ottava più, indovinate, va nell'ottava maggiore, e quindi, cioè nell'ottava successiva, e quindi interessante, molto bellino. Non riesco neanche a parlare, a tutti questi pippoli che ancora non ho capito a che cazzo servono, non li ho mai utilizzati, sinceramente. Magari avranno un'utilità incredibile che sto sottovalutando, prima o poi li verificherò, mi informerò. Più che altro, mode, swing, division, cioè io li ho provati a girare a tutti, però mi sa che servono dei plugin specifici, perché mi sa che non servono a niente se non li sfrutti a dovere. Madonna, però perché con le luci si legge male, allora, bank, A, B, non lo so cosa sia, questi qua, questi non so cosa servono, ancora non ho capito un cazzo. L'arpeggiator non l'ho mai usato, non so se è utilizzabile, perché io lo uso sul Qubase, è stata asterina, non so se tutte le funzioni sono utilizzabili. Full level invece è una cosa interessante, perché vi permette di fare in modo che premendo una nota anche piano, perché ragazzi, questa tasterina, per quanto possa sembrare una tasterina così, No, è un po' meglio, un pizzichino sopra. E diciamo che quando premete la nota, lui vi rileva la potenza con cui la state premendo, e questo ovviamente è essenziale per comporre, perché se siete capaci, cosa che io non sono, infatti ancora sto imparando, Ma se siete capaci a suonare la tasterina, e dovete comporre, vi serve abbastanza nella sensibilità dei tasti, perché altrimenti è tutto piatto. E invece, se siete come me che si accadimenti, potete mettere full level, l'ho usato qualche volta ma non sempre, per fare in modo che anche premendo appena il tasto, lui lo recepisca come il massimo, Che sarebbe, mi sembra, 127, non proprio il volume, ma diciamo il massimo. Questo pippolino, che sembra tipo un joystick anni 80, serve per fare cose particolari. Allora, non mi ricordo bene tutte le funzioni, mi ricordo che muovendolo in due direzioni, lo fate andare alla nota successiva, alla nota precedente. Cosa significa? Cioè, come funziona? Se voi premete una nota, ok? Sto premendo il sì, e fate così, si sentirà, non so che rumore faccia il sì, però immaginate che il sì faccia sì, sì, così, in questo modo. Che è un effetto carino, può essere sfruttato in alcune occasioni, interessante. Sopra, a ogni tasto, c'è una scritta, che non so se sia, un quarto, un quarto T, un ottavo, un ottavo T, poi c'è Excel, guardate, c'è anche il file Excel, se volete creare un file Excel con questo tasto. Cioè, così è lui crea un file Excel. Questo è up, questo c'è sopra, questo è down, cioè down, includi, ordina, anche sempre riguardo ai file Excel. Se voi create il file Excel, mettete i dati, poi li volete ordinare, lo fate così e in automatico ordina. Mentre run, ovviamente il contrario, cioè randomizza, casualizza, lo fate così e lui risparge. Poi c'è latch, che è il latch da Ascarp, questo è orribile, va bene, andiamo avanti. Poi c'è arp oct 1, arp oct 2, arp oct 3, arp oct 4, swing 50%, swing 55%, swing 57%, swing 59%, swing 61% e, infine, ultimo, ma non meno importante, swing 64%. Framale, ma cosa significa? Non lo so. Però, a me quello che mi interessa è questa e questa, che ancora non abbiamo visto, adesso andiamo a vedere. Mi sto suonando il telefono, madonna, ora mi toccherà rincollare i video, che palle, ma perché mi amano? Mi ho proprio mentre registro, l'ho fatto un cazzo per l'ultima mezz'ora, vabbè. Dicevamo, siamo rimasti a questi. Questi pad, ok, bellissimi, gommini, che voi non potete magari capire, ma i materiali sono, ma sono di gomma. Il mio dito non scivola più di tanto, sono ganzi comunque. E non sono dei veri e propri tasti, cioè se vedete, io facendo così, non è che si premono. Sembrano inutili, cioè si premono ma leggermente. Ma uno dice, ma allora non servono a nulla, sono finti. No, praticamente questi pad si utilizzano per la batteria, come percussioni. Cioè, ovviamente andare a premere così su questi tasti non ha tanto senso, no? Anche questi sono sensibili di, in base a quanto li pigiate, e ovviamente questa è una cosa essenziale ancora di più forse per la batteria. E niente, cioè praticamente se voi volete suonare la batteria, tipo, non ne so, qui c'è la gran cassa, no? Qua c'è lo skit, qua c'è caparezza e qua c'è lo snare. Voi fate così... Capito? È particolare, bellino. Cioè, più che altro lo andrebbe suonato con due mani, penso. Però non so dove cazzo infiamare. Prendo un cavalletto al volo. Vi faccio vedere al volo come si farebbe. Anche se non lo so fare, però su per giù, in linea generale, ci si arriva. Praticamente, faccio vedere. Così, troppo basso. Oh, bello, sì, bello vicino, no? Lo metto di là. Ecco. Su. Vedete, qua c'è la tasterina. Lo metto. No, andava bene nell'altro modo, stavo. Ma che cazzo fai? Oh, scusami, scusami. Ok. Qui c'è la tassa, qui c'è il coso. Potete, usando due mani, è come se suonassi la batteria ma con le disa, no? Quindi, magari fai tipo... Questo è come il fattito, mi ricordo come si chiama, il piattino, quello piccolo. Io sono esperto per gli termini. Quindi fate... Così. Insomma, così, queste sono le mie capacità. Niente, penso di aver fatto... Ah no, mi manca una cosa importantissima. Praticamente, questo qua, in realtà, se lo collegate tipo a Cubase, a una Dove, che per chi non sapesse è uno di quei programmi per comporre, Cioè, non importa avere un'interfaccia qua sopra, perché tanto lo vedete sulla Dove quello che fate, Però, comunque, loro ci hanno voluto mettere uno schermino. Questo schermino in 4K per vedere i video. Praticamente potete vedere i video di Firmare Sanco in 4K. No, a parte gli scherzi. Vengono scritte le informazioni base su quello che state spippolando, sostanzialmente. Tipo, se pigiate una nota, lui vi dice a quanta potenza l'avete pigiata, per esempio. Oppure, tipo, se pigiate una nota, poi fate con questo su e giù, lo vi fa vedere proprio la linea che vi fa capire quanto stai andando su, quanto stai andando giù, così. E... ok, e poi penso basta. Vi faccio vedere, magari, informazioni per gli utenti da casa, come si collega. Allora, c'è questo qui, che dovrebbe essere una USB normale, non so come cazzo si chiami. Quindi, questo tipo di USB quadrate, che la usano anche le stampanti. E... e si attacca con una USB, quella classica 2.0. Questo, insomma. Cioè, queste qua. Io ho l'adattatore, perché non mi bastavano le prese, però... Questo qua, insomma, per farvi capire. E... e sicché è nulla, è molto plug and play, cioè... In realtà non c'è neanche bisogno di plug-in, cose strane. Quella attaccata al computer, se avete un programma che la sfrutta, verrà automaticamente rilevata. E potrete utilizzarla, senza troppi cazzi. Molto comoda. È molto bello. Quindi ringrazio ulteriormente i miei amici, che mi hanno regalato questa fantastica tastierina. Purtroppo, ancora, la sto utilizzando, ma non troppo. Cioè, nel senso, la uso più che altro per inventare. Quando l'attacco su Cubase, spippolo un pochino qui così a caso. Però poi per comporre, ancora, non ce la fa registrare direttamente. Perché non ho la manualità per suonare la tastiera bene. Quindi vado fuori tempo, sbaglio le note. Faccio prima a comporre nota per nota, come facevo prima. Anche per abitudini, in realtà. E quindi, entri questa era la mia tastierina. Ditemi se vi è garbata, nel caso comprate anche voi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Chiedo, ora vi canto una canzone, suonando con la mia tastiera. bu 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 Ciao ragazzi.